Bentornati a Radio Design, una nuovissima puntata di Brand Pit, storia di icone, con Elisabetta Enrietti, from Valle d'Aosta. Benvenuta Elisabetta. Che compostezza! Buonasera! Ho smesso di fare casino durante le giornate. Va bene, facciamo una puntata da intellettuali allora? Allora, certo, oggi parleremo di un brand che è molto famoso nel mondo. Voi tutti sarete andati al cinema prima o poi, tranne Elisabetta che un pochino l'odia, e voi tutti sarete finiti per vedere uno di quei film di animazione. E come si chiama quel brand che fa film di animazione così tanto famoso nel mondo? Piscar. Parliamo della Piscar. Esatto. Un brand tutto valdostano, giusto? A sede ad Aosta. Esatto, un brand pezzato come la bucca. Eh, già sto immaginando Steve Jobs con le pezze addosso. Beh, è bello. Non si parla dei morti qui. Allora, ma invece sì. Allora, oggi parliamo appunto della Piscas, della Pixar. Piscas. Come nasce la Pixar? È una storia lunghissima. Io farò un brevissimo intro, poi come al solito passeremo alla grandissima, famosa ormai analisi decennale di Elisabetta sui loghi. Eh, veniamo al dunque. Come nasce? Voi tutti sapete che, in realtà non lo sa nessuno, ma la storia della Pixar è legata strettamente alla vita di un grandissimo uomo che conoscete per un altro brand famosissimo, altrettanto famoso, che Elisabetta si rifiuta di analizzare in questo programma, che è la Apple, ok? Lo terremo per maggio probabilmente la Apple. Però in realtà la storia di Pixar nasce ancora prima, nasce con un certo George Lucas che voi tutte, tranne Elisabetta, conoscete per via di Star Wars. Cioè, oggi io le faccio una giusta. George Lucas, lo sapete, è un grandissimo regista. Cosa fa a un certo punto? Proprio mentre sta sviluppando un pochino la produzione di Guerre Stellari, introduce un piccolo reparto nella sua produzione, nella sua casa di produzione, che si chiama appunto Lucasfilm. e introduce questa sezione che si dedica esclusivamente alle animazioni. Cosa succede? Siamo nel 1984 e viene assunto all'interno di questo reparto speciale un certo John Lasseter, che spero di pronunciare in modo giusto, classe 1957, che adesso è un vecchione, ma in realtà allora aveva appena 27 anni. Cioè l'età di Elisabetta, sostanzialmente. No. Sin da bambino questo Lasseter amava le animazioni e frequentava anche Scuola dell'Arte, quindi come Elisabetta appunto abbiamo un nesso tra te e Lasseter, solo il conto in banca è diverso probabilmente. E il suo è nettamente minore. Esatto, Elisabetta ha un sacco di soldi, potete rapinarla, la trovate in centro a Perugia. Lasseter fu messo al corso, diciamo, di animazione. Venne assunto poi dalla Disney, che tornerà nella nostra storia successivamente. Ma cosa succede? Poi a un certo punto Lasseter entra in questo team e diventa direttore creativo. E rimarrà sempre strettamente legata alla sua vita, ha il futuro di quella che nasce come piccolo reparto della Lucasfilm, che poi diventerà quella che noi tutti conosciamo col nome di Pixar. Ma io mi fermo, perché la storia show must go, visto che adesso si parla molto di The Queen, cerchiamo di capire perché si chiamava Pixar. Beh, noi non cerchiamo di capirlo, noi lo diciamo, perché c'è già chi ha cercato di capirlo e l'ha scritto per me, quindi lo riporto. Brava. Allora, inizialmente non si chiamava Pixar, non si chiamava Pixar, bensì Pixel, appunto, da tutta questa storia dei film d'animazione, i Pixel e bla bla. Poi hanno detto, noi le cose normali piacene, quindi hanno preso le prime due lettere di Alvi Ray Smith, che è uno dei soci praticamente. Quindi hanno preso la A di Alvi, la R di Ray e hanno preso quindi AR, queste due lettere, le hanno sostituite alla E e alla L di Pix, cioè un casino devastante. In sostanza, ragazzi, da Pixel è diventato Pixar, detto proprio così. Pixar che rimanda anche alla parola spagnola che significa fare immagini, quindi alla fine tutto torna. Che si dice in spagnolo? Pixar. Pixar. Todo loco. Eh sì. Pixamos. Empanadas. E famos un pixata de... Pixamos. E quindi questo. Questo nome, ragazzi, è scritto con un font, perché un conto è dirlo, un conto è scriverlo. Esatto. Un font che, ora Nicola, ti interrogo, quel font che presenta... Bastone. No. Perché c'erano due alternative. Quello font che presenta quelle simpatiche... Le grazie. Bravo. Ciao Pampanelli. Esatto. Un font quindi graziato, quindi con quelle simpatiche codine finali in sostanza, ispirato al font Charlemagne Bold. Oui. Che qui è un font graziato. Lo stesso font che possiamo, per esempio, ritrovare anche nei libri di fiabe, perché spesso è usato, appunto, il font graziato soprattutto per i libri, perché rende la lettura più scorrevole. Quindi mia interpretazione probabilmente deriva anche un po' dai libri per bambini, questa scelta. Anch'io, chiaramente. Però, appunto, è una mia interpretazione, quindi non lo so. Fine. Ok, allora continuiamo la nostra fantasmagorica storia che riguarda... Ciao Ale. Ciao Ale. Intanto ho messo subito il commento, ciao ragazzacci di Alessandro Salvatore, sei veramente il top wow. Quindi torniamo al nostro personaggio chiave, ok, che è un certo Steve Jobs, che voi tutti conoscete. Cosa succede? A un certo punto, se avete visto il film di Steve Jobs, Stewy, a un certo punto viene messo in minoranza all'interno dell'azienda che lui aveva creato. Questa cosa è veramente una cosa vergognosa, vorrei dirlo a distanza di 30 anni. E' una cosa vergognosa. Quindi cosa fa Steve? Dice, va bene, adesso vi dimostrerò che ancora una volta sono un bomber del marketing. E cosa fa? Dice, ok, creo un'azienda nuova. La chiamo Next, ok? Next che sostanzialmente cosa fa? Produce animazioni. Quindi un qualcosa di molto simile alla sua Apple. E che cosa fa però? A un certo punto comincia a produrre diversi prodotti che sono sostanzialmente software. Quindi anche, prova anche in malo modo a fare anche dei computer che non avranno un grandissimo successo. Però la sua intuizione qual è? Jobs va da Lucas e dice, ascolta, tu che sei a fare un sacco di film, guarda, sei uno sfigato. Tu vendimi, dice Lucas, sei uno sfigato. Mi vendi per soli 10 milioni di dollari? Che per lui era tipo come per noi, prendere un caffettino. Chiaro. Mi vendi questo tuo reparto? E allora Lucas dice, vabbè, fai che ti pare. Frega cazzo. Frega cazzo. Gli vende il suo reparto. E cosa fa? Stewee lo chiama appunto Pixar. Stewee. Perché è un mio amico. È un mio amico. È un mio amico. Stewee che cosa fa? Acquisisce questa società e cosa succede? Siamo nel 1991 ed è un anno di svolta per questa società perché sostanzialmente la Pixar stringe un accordo fondamentale decennale di 10 anni con la Disney Picture, un'altra mega azienda che voi tutti conoscete e c'è poco da dire su questo. Direi. In questo superaccordo sostanzialmente nasceva una collaborazione appunto per la produzione di contenuti originali congiunti. Quindi tutti quei mega film che avete visto negli anni 90 animazioni della Disney in realtà venivano prodotti dalla Pixar sostanzialmente. Ma andiamo avanti nel tuo racconto Elisabetta. Allora, il mio racconto ora approda in un punto fondamentale. Parlando del logo della Pixar non si può non citare. Zio Tom, l'assetter. No. La lampada magica. Bravo. Allora, questa lampada, perché la Pixar usa questa lampada che se la saltella ogni volta che arriva al logo, cioè, potevano usare un cane, potevano usare una bottiglia, hanno usato una lampada. Perché? Perché è stata un'intuizione di John Lasseter, o meglio, un colpo di culo. Perché? Cosa è successo? Allora, loro si sono creati, se ho ben capito ragazzi, perché poi è un po' tutto alla Carlona. Capito Nen. Capito Nen. Te lo spiego. Allora, cosa succede? John Lasseter, che era uno dei soci, se non sbaglio. Sì, era il direttore creativo della Pixar. Esatto. Cosa fa? Decide di iniziare un po' a sperimentare con il programma che era stato proprio creato dalla Pixar. Quindi aveva creato questo programma di animazione e inizia un po' a pasticciarci, a fare le cose. e è arrivato il momento in cui ha detto, mo, che cazzo animo, non ne aveva la più pallida idea. I capelli di Steve Jobs, che già allora non c'erano più. Esatto, esatto. Più o meno il livello creativo in quel momento era quello. Era nel suo studio, con la sua lampada sulla scrivania, ha detto, mo, ti animo. E quella lampada che aveva sulla scrivania si chiama appunto la Luxo, ed è una lampada molto interessante perché era stata progettata da un progettista di automobili. Bomba. Un po' strana. Quindi questa lampada che si può tutta girare, animare, sbracciare, e quindi ha detto, mo, ti animo. Molto interessante l'animazione di questa lampada perché questa lampada ha delle parti, delle linee molto rette, ma anche delle linee curve, quindi era molto interessante da animare. E quindi, niente, l'ha pigliata e l'ha animata. Ha fatto la Luxo Senior e la Luxo Junior, quindi c'erano queste due lampadine che se la giocavano con una pallina all'interno del corto. Corto un po' banale, direi, due lampade che giocano a palla. E invece è stato il primo corto che è stato presentato agli Oscar e ha avuto un discreto, no, un discreto, un grande successo. Ho detto, boia, boia, erano gli anni 90. Boia, è successo, boia. Tu non eri neanche nella gestazione, probabilmente, in quel periodo. Chiederò a mia mamma. Chiederò a mia mamma. Che saluto. Ciao mamma. Comunque, che è successo? Allora, hanno animato queste due lampadine, è successo incredibile. Sta di fatto che ad un certo punto hanno detto, boh, sai che c'è? Io la uso proprio all'interno del logo. Quindi per questo, ogni volta che inizia un film Pixar, si vede arrivare questa lampadina salterellante e, incredibile, è stata animata per adattarsi a qualsiasi tipo di musica. Cioè, gli possono mettere qualsiasi tipo di musica sotto che sembra che vada a tempo. Incredibile. Come quando Elisabetta balla in discoteca, sostanzialmente. Che succede molto frequentemente. Esatto. A questo punto, cosa succede? Rientriamo sulla nostra storia bellissima. Facciamo un passo indietro. Torniamo nel 95. Non c'eri ancora, probabilmente. Nascevi da lì a poco. Mentre io ero già molto anziano, ovviamente. Nasce un programma che farà la storia della Pixar. Ok? E farà fare anche un sacco di soldi, nello specifico 360 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, che allora erano un sacco di soldi. Beh, anche adesso sono un sacco di soldi. Anzi, ora non si fanno più questi soldi con un film, perché tutti vedono i film su Netflix. Che succede? Viene prodotto Toy Story. Conosci Toy Story? Certamente. Bene, io non l'ho mai visto. Davvero? Io odio i cartoni animati, comunque passiamo avanti su questo di storia. Cosa succede? Toy Story fa fare questo salto, sia da un punto di vista creativo, quindi della produzione. Si vede proprio una differenza. Io ho visto alcune immagini, sto dicendo una cazzata. Comunque l'ho visto a suo tempo. Ma anche una questione di profitto, appunto, e creatività che andavano di pari passo. Anche qui c'è sempre la mano lesta di Lusseter. Ok? E cosa succede? A questo punto, Stevie, il mio amico Steve Jobs, dice Ma perché non quotiamo la Pixar in borsa? Tu forse non lo sai, ma quando si quota una società in borsa vuol dire che bisogna raccattare un sacco di soldi. Mi fai così ignorante? Ok, allora lo sapevi. E quindi... No, no, no! Quindi che succede? Quando un'azienda comincia a diventare veramente grande e tocca trovare nuovi fondi per fare cose veramente fighe, ci si quota in borsa. Infatti è successo così anche per la società Pixar di Steve Jobs che non a caso viene quotata, raccoglie tantissimi soldi e qui nascono un po' di dissapori, timori di Lusseter, sempre lui il direttore creativo. Comincia a dire, come succede sempre, vabbè ma ci stiamo ingrandendo, poi abbiamo gli azionisti, ci dicono cosa dobbiamo fare, ma io sono un creativo. E Steve va tu e gli dice, ascolta, devi stare tranquillo, tu puoi fare quello che ti pare, divertiti, sei creativo. E infatti la storia continua, Lusseter non abbandona la società come potete immaginare voi video e radioascoltatori. E arriviamo poi però a un momento ultratragico della Pixar. Esatto, salutiamo Boyla in questo momento. Cosa succede? Il divorzio, il famoso divorzio tra la Pixar e la Disney. Ma prima di raccontarvela, passiamo alla palla, Elisabetta. Quanta responsabilità sulle spalle. Allora, beh, ora dirò una cosa che non c'entra un cazzo con quello che stava dicendo Nicola perché mi ha passato la palla in un momento in cui questa cosa non c'entra un cazzo. Però, ormai, tanto il discorso si è perso, quindi lo dico. Allora, ragazzi, lavorare alla Pixar è una figata mostruosa quanto pare. L'ambiente è tutto bello, bellino, fiore in fiorellini. E poi la cosa figa che la gente, tipo Nicola, dirà non me ne frega un cazzo, ma per me sarebbe la svolta. Quelli che lavorano alla Pixar si possono scegliere l'arredamento del proprio studio, ma non l'arredo tipo voglio la sedia X, proprio lo ambientano lo studio. Un tizio l'ha fatto tipo Saloon Western, quindi entri così con le porte che sbarellano lì. È bellissimo, una cosa incredibile. E poi un altro tizio ha scoperto all'interno del suo ufficio una stanzetta segreta. Wow. Wow. Ciao Simone Fucchi. E quindi ha deciso di adibirla a Stanza dell'Amore che non era esattamente scritto che cosa significasse. In ogni caso ha divido questa stanzetta a Stanza dell'Amore, però era una stanzetta un po' segreta e pensava che appunto una volta scoperta l'avrebbero licenziato. Quindi suppongo che ci facesse quello che si può pensare. In realtà non l'hanno licenziato. Ho detto figata. Sì, c'è stato un grande entusiasmo per questa cosa, tant'è che ogni volta che fanno fare la visita dello studio della Pixar quella è una tappa obbligatoria. Hanno anche portato i grandi stiui lì a fargliela vedere. Tutto è una figata. Cioè tutti i bambini sono stati concepiti in quella stanzetta probabilmente. Non lo so. I famosi figli della Pixar. Figli della Pixar. Esatto. Un'altra stanza interessante è una stanza che a livello strutturale non ci doveva esattamente essere. Nel senso, è stata ricavata anche a causa della struttura dell'impianto di areazione. Non ho ben capito. Sa di fatto che ci si accede solo tramite una botola. Era una stanza che in realtà non doveva esserci. E in quella stanza si recano proprio a decidere i progetti dei nuovi film. Quindi è una stanza segreta, un po' così, che ci vanno tramite questa botola. Mi ricordo molto Lost, che tu non hai visto probabilmente. Chiaro. Chiaro. Di le cose che ho visto. Ebbene, bene, continuo. C'è Nosaradan in questa storia? Nosaradan c'è sempre. C'è qualche obeso della Pixar che è stato salvato da Nosaradan? No. No. Però, a proposito di obesi che sono quindi mangiatori di pizza, ho una notizia sulla pizza. Attenzione. Cosa c'è? Il collegamento di contesina delle medie. Tipo? C'è un camioncino della pizza. E tu dirai. Ebbene. E allora? Questo camioncino della pizza, Pizza Planet, si ritrova in tutti i film della Pixar. Quindi c'è questa sorta di cameo che in tutti i film della Pixar, tipo appunto Toy Story, Nemo, eccetera, si ritrova ad un certo punto questo camioncino. Non si sa bene come mai. Vi assicuro che non abbiamo preparato questo sketch. Incredibile. È venuto fuori. Incredibile. Incredibile. E poi, ultima notizia, l'ultima curiosità, l'ultima chicca. La sparo. Vai, vai. Ve la dico. Ormai la suspense è altissima, devo dirla. Va, di. Allora, ho cercato anche un po' di messaggi subliminaus, perché alla fine mi piacciono un po' queste cose. Cabala, cabala. Sarà vero o non sarà vero. Ce ne erano migliaia, ragazzi. Io ne ho selezionato uno, non perché fosse il mio preferito, ma per il tempo, perché dovevamo fare sto programma. Ho pigliato il primo che ho trovato, ma è interessante. Ovvero che in Toy Story 2, Bud Lightyear, che è quello con la testa a uovo, l'astronauta incredibile, Sì, non me lo ricordo. Quello violetto. Ah, ho capito. Esatto. Quello che vendevano all'Happy Meal, Roberge. Esatto. Ad un certo punto vede Cowgirl Jessie, quindi una dolce pulzella giocattolo. E gli si illuminano le lucine e le ali gli si ereggono verso il cielo. Quindi è un esplicito riferimento sessuale che chiaramente, però, non è detto. Che è nato dentro quella stanzina segreta del dipendente Pixar. Esatto, esatto. Quindi tutto tortora, insomma. Tutto tortora. Ma veniamo ai momenti tragici. Come dicevamo, torniamo tristi. Il divorzio. Come le cose più belle, finisce tutto così. A scatafascio tra la Pixar e la Disney, perché dopo dieci anni e circa 2,5 miliardi di dollari fatti assieme, finisce questo rapporto. Una grandissima tragedia. In sostanza, in estrema sintesi, Stigui cercava di fottere il CEO di Disney, ma lui dice, ma col cazzo. Allora, ciaone. Stigui, allora, continua a produrre un sacco di film, ma non ci fa più una fraccata di soldi come per Toy Story. Mantenendo però altissima la qualità dei prodotti. Infatti, a livello di critica, la critica funzionava sempre, però mai più quel bagno di, non sangue, ma di persone che andavano a vedersi i filmoni. Nonostante tutto, nel 2016, ciao, siamo al top, salutiamo il direttore di Umbra24, così citiamo i nomi. Cosa succede? Dopo vent'anni, quindi siamo nel 2006, Pixar resta in quel periodo, ma tutt'oggi, la più grande casa di produzione e di animazioni grafiche del mondo. Nel 2005, lo ricordiamo, l'asseter diventa il bomber supremo di tutta questa baracca. Un'altra cosa interessantissima è che possiamo trarre delle piccole lezioncine di marketing da loro, ma più che di marketing, di come... Vita. Di vita, esatto, Elisabetta, grazie, ce l'avevo proprio sulla punta della lingua. Vita, qual è l'insegnamento del business della Pixar? Qualcosa hai detto tu, cioè l'open space, il fatto che ti puoi creare il tuo spazio strafigo. Steve Jobs gli diceva, fate che vi pare. Tu come lo faresti il tuo figlio? Bianco, senza niente, con una Alexa in mezzo a cui faccio delle domande e mi parla. E basta, un mega computer al top e non voglio sapere nient'altro. Trista. Una persona più triste del mondo, esatto. Quali sono questi insegnamenti? Brevemente, guardare il mondo con gli occhi di un bambino, perché Lasseter diceva sempre, appunto, cerchiamo di mantenere questa meraviglia, questa cosa che io non ho, cioè guardare tutto con gli occhi del bimbo, il fanciullo. Potremmo citare... Il fanciullo di anni e anni fa e potremmo citare a questo punto il famoso fanciullo di un poeta italiano, che si chiama... Non mi ricordo neanche io, andiamo avanti. Fare le cose in modo inverso, cioè, se tutti seguono la marmaglia, qui potremmo citare un altro bellissimo libro che non ricordo, no scherzo, questo me lo ricordo, si chiama... Io così, allora, è facile. No, si chiama La Folla, che è un'opera di Le Bonno, un grandissimo sociologo, ma qui stiamo salendo troppo di livello, quindi scendo nuovamente... Bello. Lavorare divertendosi, quindi quello che dicevi tu... Quello che non faccio io. Quello che tu non fai, perché è una tragedia continua. Gli uffici, l'abbiamo detto, coccolari dipendenti, perché questo lo possiamo dire, attenzione, dentro la Pixar c'è un cinema da 230 posti, con proiezioni a ciclo continuo, free snack, questo Elisabetta potrebbe piacere molto, ottimi ristoranti, sempre a gratis. Free snack? Cioè, Magni le porcherie di continuo, patatini. Ah, free snack! Avevo capito, tipo con gelacol. Troppa birra per Elisabetta. Si parla di cibo, Giuseppe Salviulo? No. Gli altri, guardare sempre out of the box, ragionare sempre out of the box, salutiamo delle persone. Qui ci sarebbe un discorsetto da fare, ragazzi. E cosa fecero a un certo punto per produrre un film? Chiamarono tutti gli artisti frustrati come Elisabetta e dissero, fate il cazzo che vi pare, e da lì grandi produzioni. Che sogno! E poi ogni volta che si finisce un lavoro, alla Pixar si fa un party, va bene? Con i palloncini, probabilmente. Ma che sogno! E niente, è questo. È la svolta, è bellissimo. Faccio esterografica, ci andrei subito. Beh, in qualche modo... Puoi andare con Simone Spaccia e ti infili in qualche ufficio, e fate 3D, qualcosa del genere. Perché è 3D? Tu, Simone Spaccia e Russo. La Mari. Federico Russo. Esatto, esatto. Bene, direi che abbiamo detto un sacco di cose. È stato lunghissimo. È stato, come sempre, un programma fiume. La gente ci saluta qui. Vi auguriamo uno splendido... Lo fanno davvero qui? Sì, ci hanno salutato di qua. Vi auguriamo uno splendido Natale. Natale, bello Natale, ragazzi. Bello Natale. Addobbate le vostre case, siate buoni, scambiatevi un segno di pace, questo pure è fondamentale. Soprattutto con chi odiate. Bene. Mi sembra un buon auguro, un buon... Salutiamo la nonna Nanda. Saluto tutta la mia famiglia e tutto il resto del mondo. Addirittura così... Così! Così pago. Bene, io non saluto nessuno. È stato bellissimo. Baci baci. Ciao.